Eccellenza Reverendissima, cari sacerdoti, religiosi e cari fedeli. Prima di tutto vorrei ringraziare vostra Eccellenza per l'invito che mi ha rivolto a partecipare a questa celebrazione eucaristica. Con un motivo particolare Tra pochi instanti, infatti, io mostrerò a tutti e poi consegnerò al Vescovo Vitali un decreto della Congregazione per i Vescovi E il decreto del 10 maggio scorso Con cui questa chiesa di Sant'Alessandro viene elevata a cattedrale della diocesi di Keiv-Gitomir E al tempo stesso la chiesa di Santa Sofia in Gitomir, finora cattedrale, riceve il titolo di concattedrale Ecco, questa decisione del Santo Padre Francesco riconosce una situazione di fatto già esistente E già nel 1999 la diocesi di Gitomir cambiò il nome divenne diocesi di Keiv-Gitomir E proprio da quel momento anche questa chiesa divenne all'epoca con cattedrale Ma pian piano in questi vent'anni questa chiesa con cattedrale è diventata sempre più importante nella vita della diocesi E diventando di fatto il centro di governo e il centro liturgico della vita della diocesi Ecco, possiamo ricordare che già da decenni praticamente i Vescovi di Keiv-Gitomir vivono ormai stabilmente qui a Kiev E che grandissima parte delle celebrazioni più importanti per la diocesi, come ad esempio le ordinazioni episcopali, avvengono ormai in questa chiesa Ecco, da oggi questa centralità della chiesa di Sant'Alessandro diventa in qualche modo ufficiale, sancita anche dalla autorità del romano-pontefici E quindi da oggi questa chiesa è la cattedrale diocesi Ecco, è molto significativo che noi procediamo a questo passo nella giornata di oggi Solennità del Corpo e Sangue di Cristo Perchè, come ci ha ricordato San Giovanni Paolo II Tommo, come ci ha ricordato San Giovanni Paolo II La chiesa nasce e vive dell'Eucaristia Cercva narodzioce z'Eucaristia e vive dell'Eucaristia Ecco, non c'è chiesa senza Eucaristia Ecco, e qui come comunità diocesana noi rendiamo presente la chiesa che è il Corpo Mistico di Cristo E questo Corpo Mistico di Cristo, che è la chiesa, si nutre del Corpo e Sangue di Cristo che riceviamo nei sacramenti Ecco, con questo spero che siamo tutti grati a Dio per i suoi doni e grati a Dio anche per il cammino della diocesi Che con questo decreto che ora vi mostro continua in una forma rinnovata E credo che tutti noi, come c'è la città, è d'accordo a Dio per la città, che sta rinnovando la sua città E oggi la città rinnovata la sua rinnovata la città E ora vi mostro un decreto E ora vi mostro un decreto Vissokopreosvящenny otec Vítalij Krivitsky, jeписkop Kijivsko-Жitomirsky Vissokopreosvazia E il corporeosho Il corporeosco E il corporeo Vissokopreosah E ok, è la città E 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 l'ως che da questo era con-cathedra. L'abbiamo alla fine Fr. Sf. Sofiei, adati titul Konkathedri. Vrh. Pontifik Francis zbogo providienia Papa, otrimavši prichilnu oțínku apostolskoj enunciaturi v Ukrajiní, majuči na uwazji rozvitok Св. Materi Cerkvi i спасínia душ, postanoviv skeruvati zvernene do njogo prohánia na rozglad держavnogo sekretariatu i kongregații do spraw jepiskopív. Vrh. Pontifik, pésle toho, jak otrimav tam, de było to potrzebne, oțínku tých, od kogo ona była potrzebna, abo tých, kto pretenduval sobie prawo na nej, przez dekret kongregații do spraw jepiskopív, що maje taku samu vagu, jak apostolský list, opечатaný свincevoj opечатkoj, pripěňuje díju titulu katedri dla Hrámu Св. Sofiei i podnosť zgadaný Hrám Světoho Aleksandra do rangu i gídnosti katedrálnou cíjej jíj díjecezí, odnočasno nadávějí vši prerogativi, pravá i privílejí, jaký májí jinší katedrální hrám zgídno z normami kánoníčnýho práva, kánoníčný 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 díjem kánoní' kánoní quňét .. přeacey kánoníčný Grazie. І довіряю сьогодні цілу нашу дійцезію господові, щоб він її провадив, щоб він її об'єднував, щоб він був із нами по всі дні.